Guardate che occhiaie, mi sono appena svegliato. Tifosi di Oli e Benji, bentornati sul canale di Dario Augusto IV per questa finalissima tra Toho e New Team, che sta per iniziare, ed è questo il bello. Noi sappiamo che sta iniziando, ma non sappiamo se e quando finirà. Le due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, ed ecco la New Team, è lei la prima ad entrare. Tutti sono collegati per vedere questa partita. Tutto ciò, mentre un supporter della Toho, in preda all'euforia, sembra che sta tirando un pugno sul mento a quello dietro. Non iniziamo con la violenza, dai! Ale, Toho! Siete più forti! E il mio doppiatore ha un attacco di embolia polmonare! Mi sono allenato moltissimo per vincere la partita di oggi. Poco prima di iniziare, Mark Landers ricorda la finale di due anni prima, sempre tra Toho e New Team, che il cartone ha bellamente saltato. E ricordiamo le azioni salienti di quel match. Tipo il gol di Olli, dove il portiere ha provato a pararla con la parte esterna della mano. O l'allegria di Johnny Mason, che affronta con un sorriso da beota Mark Landers, prima di essere umiliato. Che poi in realtà Mark non è che li dribblava, lui correva dritto. Erano i difensori che si scansavano per paura di essere travolti e morire. Ricordiamo anche il pareggio di Mark Landers, con un portiere mai visto finora. E il vantaggio della New Team, con Olli, che prima durante l'azione ha il numero 10, poi fa una ravesciata e ha deciso di cambiare numero durante l'azione avendo il 19. Ma basta coi ricordi, ci avete rotto le palle, iniziamo sta finale. Ti ricordi la finale dell'altro anno? Fu bella. E cavola ancora! Ce la fate vedere o no sta partita? E anche in quell'occasione ha... Capelli Cotonati e Paolo Bonolis devono rievocare altri ricordi, quelli dell'anno scorso. Dove... Guarda un poco, che sorpresa! Chissà che finale c'è stata! Oh! La New Team che ha battuto la Toh! Wow! Che originalità di scrittura! Di quella partita però ci sono sicuramente da apprezzare le buffe esclamazioni di Mark Landers. Fatti sotto, Olli, e ti farò vedere i miei progressi! Tipica frase che i giocatori urlano a un avversario, no? E proprio quando Mark esclama... Non riuscirete a fermarmi! Perde palla. Ottimo Mark! Sei un pirla. Intanto, bella l'azione della New Team. Olli arriva a due metri dalla porta. Tira! No, la passa a Paul. Proprio realistico tutto ciò. E adesso Paul Diamond anche è a due metri dalla porta. Tira! Ai cinque metri di porta, cavolo! Che aspetti? Anche Nonna Papera segnava. Niente, anche Paul Diamond ha uno stretto bisogno di Immodium e decide anche lui di passarla. E indovinate a chi? Sir, ma paura di Mason! A Johnny Mason! Mamma mia, mamma mia, Johnny, mi ho paura, questo è una sbaglia! Johnny Mason, non c'è neanche il portiere stavolta. Sir, ma paura di Mason! È gol! La New Team è passata in vantaggio! Faccio fatica a crederci! La New Team ha vinto un torneo con il gol di Johnny Mason. Ma vi rendete conto che vergogna per la... Cioè, la Toh dovrebbe, dovrebbe tipo licenziare tutti. Chiamare, tipo, quelle gru con la palla che distruggono. Cioè, devono demolire la scuola. Non può continuare a esistere una scuola che ha perso a causa di un gol di Johnny Mason. Cioè, pure Ed Warner. Cioè, proprio la faccia tipica di chi sta pensando di ritirarsi dal calcio giocato e di darsi tipo al taglio e cucito. Vabbè, adesso la iniziamo sta finale, sì o no? O dobbiamo subirci altri ricordi, tipo il battesimo della nipote di Bruce Harper? Finalmente ci siamo! I tifosi sono in ansia! Sia le ragazzine infoiate per Olli, sia i rag... No, aspetta. No, 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 no! Dai, no! No, ragazzi, dopo questa devo chiudere il canale. Cancello tutti i video, cancello la serie. Voi non ve ne siete accorti? Porca di una miseria, ma siete così degli scansafatiche, disegnatori! Voi pensavate di fregarmi, ma no, a Dario Augusto IV, ste cose non sfuggono. Osservate un po' i tifosi dietro le ragazze, ok? Adesso guardate i tifosi dietro i ragazzi. Sono lo stesso disegno! Ma hanno solo cambiato i colori! Mannaggia, guardate, c'è il primo, il tipo che si vede mezza faccia, che sta pensando a cosa fare della sua vita. C'è il secondo, che ha la tipica espressione di chi ha dimenticato il gas aperto a casa. Il terzo, che non sa perché è ancora vivo. Mannaggia, ma dico io, ma almeno cambiategli gli abiti, lasciategli le facce e le posizioni. No, nemmeno quello. Solo i colori. Vigliacchi! Già, posso fa... Comunque, Mark Landers inizia a avere molto freddo agli occhi, tante che gli tremano le pupille. Sta per dare il via. Finalmente l'arbitro da inizia sta caspita di partita, e nel video originale siamo al minuto 11 e 15. C'è l'episodio iniziato con i giocatori che si stavano schierando in campo. In pratica abbiamo visto 11 minuti di nulla, di trama che non vuole andare avanti. 11 minuti dove nel mondo di Oli e Benji sono trascorsi 4 secondi. Chiedo a questo punto un intervento al nostro telecronista, in diretta dallo stadio, Pippo Ravioli. Pippo, siccome sei lì, ci spieghi sta storia che il tempo sembra non passare? Sì, grazie della linea, Dario. Pippo? Few minutes later. E' vivo. Pippo? 15 minuti later. Qui è Pippo Ravioli in diretta dallo stadio. Vi prego, portatelo via. E' la Tau che centra il pallone con l'Enders. Finalmente si comincia. La Tau batte in un punto a caso del campo, dato che tecnicamente si dovrebbe battere sulla linea di centrocampo, e abbiamo visto che non c'è la linea a terra, dove caspita hanno battuto. Una breve rincorsa, sembra che voglia tirare direttamente... Mark prova un tiro da centrocampo. Il pallone viaggia ad una velocità incredibile, ma il pallone colpisce il paro. La cosa bella è che il pallone scende ed è distrutto, cioè l'ha demolito, l'ha bucato, non lo so. Se Mark ti dà un calcio, ti frattura l'anima. Tutti i tifosi rimangono senza parole. Buongiorno, signorina sexy. Non ho mai visto un tiro così potente e così preciso. Ma sei scemo? Preciso no. Cioè, lui voleva segnare. Se fosse stato preciso avrebbe segnato. Alan Crocker rimette in gioco il pallone. Parker con i piedi rimette in gioco il pallone. Ma no, l'avete cambiato di nuovo. Ma perché questo una partita è Alan Parker e una partita è Alan Crocker? Papà, a me piace Alan Crocchette. No, non fai ridere. No, sul serio. Dammi le crocchette. Continua così, Olly! Riparte quindi la new team con Olly, con una bellissima serie di dribbling. Ce li comenta, a bordo campo, il nostro inviato. Su grandissima richiesta, il ritorno di Antonello Fogna. Antonello, raccontaci quest'azione. Sì! Grazie del contributo, Antonello. Lancio per Paul Diamond che sale. Stanno dimostrando molto forti. Devo assolutamente raggiungerli. Ok. Ma siccome stai arrivando da dietro, puoi anche farlo senza gridare. Così magari non ti sentono che stai arrivando, no? Genio! Paul Diamond arriva al limite dell'area, però è marcato da tre giocatori della Toh. Toglietevi di lì! Fatelo tirare! Io non ho paura di nessuno, tanto meno di lui! Eh, mister, lo vuole fare lei o gli sputo direttamente io negli occhi a Ed Warner? Che cavolo di affermazione è? Toglietevi, lasciatelo tirare. A sto punto giocate senza difensori, no? Il non plus ultra del no sense. Paul, aspetta, fai tirare me! E comunque a tirare arriva Bruce Harper con il suo tiro del gorgonzola scaduto. E infatti lo blocca con un... E ovviamente Doerner para. E prima di ripartire, Olly si ricorda le raccomandazioni del medico. Evita i contrasti duri, ma metticela tu. Va bene. Non mangiare aspro, ma mangia i limoni. E con questa ennesima cagata si conclude il 106esimo episodio di Olly e Benji. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto potete iscrivervi al canale per recuperare i video precedenti. E godervi tutta questa serie che sto rifacendo commentata in questo modo. Un grazie di cuore a tutti coloro che si abbonano al canale, che ci credono in questo canale. E come al solito una manzi... Una menzione. No, una menzione. E come al solito una menzione speciale ai abbonati livello 2. Ovvero Matteo Tondini, Massimiliano Sonzogno, Blade Thunder, Federico Soggiu, Cristina Marello, Vincenzo degli Abruzzi e benvenuto anche a Dimitri Manzambi. Mi raccomando non perdetevi l'altra rubrica Cartoni Brutti dove vado a commentare insieme a Otello di Legione Leonina i peggiori cartoni fatti male e peggio brutti, mamma mia. Noi ci vediamo al prossimo episodio sempre qui sul canale di Dario Augusto IV. Ciao! Moro 불nando in qua pausa. Bye! Ciao!